Renzi racconta di un governo che è impegnato per dare soluzione ai problemi dei cittadini. Poi accade una cosa molto semplice. Nel momento in cui c'è da votare una legge contro il terrorismo, il governo non ha i numeri e addirittura la maggioranza non esiste. Perché è un governo che si regge su delle alchimie, quelle fatte da Renzi insieme a Verdini, per garantire una nuova legge elettorale e una riforma costituzionale che consenta al futuro Renzi di potersi impossessare senza aver bisogno di confrontarsi con nessuno del potere della macchina del governo. Noi su queste cose siamo molto arrabbiati perché i cittadini hanno bisogno di serietà e il governo non dando e non avendo i numeri per garantire questo provvedimento un percorso parlamentare veloce sta dimostrando di essere totalmente incapace di governare.